Gli anni 70 sono caratterizzati tra l'altro dalla storia criminale dei nuclei armati rivoluzionari, i NAR, di Giusva Fioravanti ed altri che si autodefinivano dei meravigliosi pazzi. L'origine è un qualcosa avvenuto due anni prima. Il 28 febbraio del 1975, i NAR nascono invece nel 1977, viene ucciso uno studente greco che ha simpatie politiche fasciste e Anselmi, un esponente dei NAR, risulta addirittura schizzato dal sangue e lì nasce la volontà di farla pagare. E questi giovani, Fioravanti, i due fratelli, Mambro, Giorgio Valle, Alibrandi, Anselmi, sono molto delusi dal Movimento Sociale Italiano perché il Movimento Sociale Italiano sembra non avere una spinta alla vendetta, ma a subire questo. E allora si decide di voler vendicare. Nel 1977, Fioravanti, che è il personaggio principale, Fioravanti è stato un attore da bambino, faceva parte della prima serie televisiva della RA italiana, la famiglia Brambilla, ha fatto film con Edilice Fennec, personaggio molto bello, carismatico, un carisma criminale, come lo definiva lui, riesce a coinvolgere altri giovani. E l'episodio in cui i giovani vanno a lui, come dirà lui stesso, dice io ero già pronto a questo, ma quando ho capito che davvero altri mi seguivano è stato l'8 gennaio del 78, quando c'è un ulteriore omicidio di giovani di destra, in via H, a Larenzia, e anche lì la risposta debole del Movimento Sociale Italiano. Allora Fioravanti, che è unichilista, è uno che è convinto che non potrà cambiare il mondo, non ha un progetto politico per arrivare a un obiettivo, ma lui è contro quel tipo di sistema. Quel sistema lo identifica in maniera anche forzata come antifascismo, quindi lui si definisce anti-antifascista. cercano di far pagare il giorno dell'anniversario della morte di Mantacas, cercano di vendicare i ragazzi uccisi in via H a Larenzia nel 78. Uccidono un giovane altoscolano soltanto perché ha in tasca il manifesto. E lì Fioravanti dice poi ho capito l'errore commesso, però intanto un ragazzo era morto. I Narver l'hanno accusati della strage di Bologna, anche se su questo ci sono moltissimi dubbi, anche se le condanne sono diventate condanne effettive. E nella strage di Bologna poi ci sarà il defistaggio della P2. Un personaggio che si muove vicino ai Nar, che in qualche modo ne fa parte, ma è il collegamento fra Nar e Banda della Magliana, è Carminati, che poi entrerà anche durante il periodo in cui Alemanno sarà sindaco, nel percorso di Mafia Capitale. E Romanzo Criminale, una fortunatissima serie televisiva e anche un film, è ispirato un po' a questo personaggio, il personaggio del nero, Carminati più volte con il suo modo di fare, anche in tribunale, dirà ma avete rotto coglioni con questo nero, tutto il nero e il nero, mi prendeva tutti per cui si è arrivato scamarcio. Però in questo suo modo un po' gironesco, Carminati parte da un presupposto, cioè sono un bandito, no? E io mi devo comportare così, ma lo Stato non può comportarsi così. Lui quindi dice che c'è stato un accanimento, mentre altri dicono che lui è entrato in questo percorso di Mafia Capitale. E la vicenda è una vicenda che sembrava chiusa con l'arresto di Fioravanti, Mambro, eccetera, e che invece è ritornata fuori dopo che Carminati è diventato consulente del sindaco alemanno.